Vito come doveva servire Leal Assolutamente, sì Occhio a Patry Che qui ci sono campioni olimpici Da una parte e dall'altra Jean Patry Opposto della Francia e di Milano E dall'altra parte C'è un giocatore come Erwin Gapette E attenzione perché Gianni potrebbe anche un giorno Diventare il CT della Francia Visto che Bernardinho Si è dimesso per problemi personali Ah, già firmato con la Germania però Mauri Ancora con L'attacco da parte di Nimire Abdelaziz Il salvataggio, l'attacco da parte Di Stankovic Ci pensa lui Il 25-22, un grande muro di questo Centralone serbo Tanti anni con la sua nazionale E adesso